Arbore che mi aveva conosciuto attraverso la segreteria telefonica, l'aveva fatto ridere... Quella cosa lì è molto particolare, è vera? Lui l'avevo fatto ridere, ha detto questo... Ma com'è che è andata quella cosa? Tu volevi cercare di arrivare, avevi visto che... Invece di chiedere, voglio fare, non ho mai chiesto, allora non chiedevo niente, facevo un messaggio, lo facevo ridere. I messaggi in segreteria, questo? Sì, ma uno misterioso, cioè per lui, ma chi è questo? Cioè tipo cosa dicevi nei messaggi? Pronto, ciao, sono un mio ammiratore. Sono un mio ammiratore. Sono un mio ammiratore, al tre stacco, tre, e staccavo. Pronto, ah non ti ho trovato, vabbè ti chiamo domani mattina alle quattro. Tu gli lasciavi questi messaggi in segreteria d'arboa. Lui rideva. E in quel caso quindi lui ti chiama e che cosa? Lui mi chiama e dice se ti trovo a passare da Roma mi viene a trovare. Io, guarda caso, l'indomani mi trovavo a passare da Roma. Perché a volte la vita è incredibile. Guarda come si fa.